Il pistolino del chilometro 11 fatto! Adesso si scende un po' e buongiorno a tutti come al solito con la golia in bocca vado a ritirare il pettorale pacogara e poi alle 7 abbiamo il trasporto con il motoscafo verso il punto di partenza. Ho ritirato il pacogara velocemente faccio passare la macchina. Questo è il mio pettorale e adesso vado a finire di prepararmi a posare le cose in macchina. Bene direi che ormai sono pronto Speriamo di non prendere tantissima acqua come avevo già anche visto io personalmente da acqua nel pomeriggio. Speriamo sia così e non prima ecco che si scende un po' e buongiorno a tutti i nostri spettatori che si scende un po' e buongiorno sia così e non prima ecco. Speriamo sia così un po' e buongiorno a tutti i nostri spettatori che si scende un po' e buongiorno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.